La vettura che vi sto per presentare è una splendida 500 bianco gelato, 1.2 lounge, avente 69 cavalli. È stata immatricolata nel gennaio del 2017, ma è considerata vettura aziendale in quanto a 16.804 km. Possiede dei cerchi in lega, è presente un tettino in vetro non apribile, schermo Uconnect di 5 pollici e 5, clima manuale, cambio manuale e alza cristalli elettrici, volante in pelle con comandi. Per qualunque informazione ci potete venire a trovare in via della Maglianella 35, oppure contattarci allo 06 32 693 o andando sul nostro sito www.concessionariafiori.it